Musica Benvenuti a questa nuova puntata di Faccia a Faccia, il format generalista di approfondimento giornalistico di Teleromagna. Quest'oggi parleremo di sport il 22-23 settembre, torna Cesena in Wellness e ne discuteremo con Antonello Virgona dell'associazione Time to Move. Benvenuto Antonello. Grazie, salve a tutti. Di che cosa tratta Cesena in Wellness e quali sono le novità per il 2018? Allora, Cesena in Wellness è una festa del movimento e del benessere, non più solo dello sport. Ecco perché ha cambiato nome, poi magari lo vedremo, ti spiegherò più avanti cosa vuol dire. È una festa del benessere, una festa del movimento dove tutti gli addetti legati al movimento, quindi i centri wellness, i centri fisioterapia, tutti coloro che parlano di benessere, di movimento nel territorio sono coinvolti in queste due giorni a scopo sociale che ha come obiettivo unico quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, il pubblico, più vario possibile, quindi dai bambini fino agli over 120, al movimento, all'attività fisica, al benessere, ai sani stili di vita. Quindi questo è l'obiettivo e il format che negli anni si è evoluto e che è appunto, ripeto, come obiettivo quello di sensibilizzare, di muovere, di far muovere la gente, far capire alle persone quanto è importante il sano stile di vita, che non è solo il movimento ma è una cosa più generica, quindi non è solo un movimento, ecco questo. Una delle tante novità rispetto alle precedenti edizioni, la trasformazione del nome da Cesena in fitness a Cesena in wellness. Quali sono le differenze? Le differenze è che il wellness nasce come evoluzione del concetto di fitness, no? È nato prima il concetto di fitness e poi Enerio Alessandri ha coniato il concetto di wellness, dove per wellness si intende proprio l'evoluzione del concetto, non è più solo il movimento, quindi il benessere non è più solo legato al movimento ma è un concetto più a 360 gradi, che coinvolge e comprende anche proprio lo stile di vita, quindi la gestione dello stress, al muoversi di più, al mangiare meglio e questo è, ecco perché abbiamo cambiato format, lo abbiamo chiamato Cesena in wellness, perché è più vicino alla realtà e al focus dell'evento che non è, ripeto, legato solo al movimento ma è più un concetto generale ad ampio spettro. Ecco, come detto tu poco fa, il movimento abbinato alla sana alimentazione, e quindi il concetto si ampia tantissimo, entrano in gioco non solo più le figure, che ne so, di personal trainer ma anche di nutrizionisti. Assolutamente, ripeto, noi siamo all'interno della wellness valley, il nostro territorio è il primo distretto al mondo sullo stile di vita e quindi l'evento non poteva non chiamarsi Cesena in wellness, proprio perché vuole abbracciare un concetto di benessere molto più ampio, che come hai detto tu non è solo legato al movimento, da palestra intenderci per capirci in maniera semplice per quanto complesso, ma è un concetto più ampio che comprende i sani stili di vita, l'alimentazione, la lotta al fumo, la sedentarità in generale, all'obesità. Il nostro paese ha un triste primato, credo solo Cipro sia messo peggio di noi a livello di numeri come per esempio obesità, legato soprattutto ai bambini. Sono cifre che sono vicine al 40% nel nostro paese, che sono cifre spaventose. La nostra regione è tra le più virtuose in Italia in termini di movimento, soprattutto nei bambini, ma i numeri non bastano, questi numeri non bastano, dobbiamo, possiamo fare qualcosa, ecco perché diversi anni fa ci siamo inventati tra virgolette Cesena in fitness che ora si è evoluto in Cesena in wellness. Un'altra delle novità è il fatto di spostarsi dal centro cittadino, quindi storica roccaforte di Cesena in fitness, alla pista d'atletica dell'ipodromo di Cesena per Cesena in wellness. Esattamente, abbiamo stretto in questi anni diverse collaborazioni, una molto importante che abbiamo stretto quest'anno, più degli anni scorsi con Endas, che gestisce la pista d'atletica, e quindi abbiamo condiviso che la migliore location probabilmente per Cesena in wellness è proprio quella, cioè la mamma dell'attività fisica, del movimento, dell'atletica, che poi da lì, come dicevamo prima, si evolverà nel concetto di far provare a tutti i cittadini, perché l'evento nasce per quello, cioè sensibilizzare come? Facendo provare a tutta la popolazione, quindi non solo a quelli che frequentano già i centri wellness o i centri fitness che corrono, che si muovono comunque, che rappresentano una porzione ancora troppo piccola di popolazione attiva, far provare a tutti appunto l'attività fisica. Quindi crediamo che la pista d'atletica rappresenti la migliore opportunità per questo evento. Un evento quindi che è dedicato non solo a chi pratica ovviamente sport a livello agonistico, a livello professionistico, ma anche a livello amatoriale e dilettantistico. Soprattutto anche a chi non pratica per niente attività sportiva. La vera sfida di Cesena in wellness è di portare nella nostra location, quindi alla pista d'atletica, chi non ha mai fatto movimento, o a chi ha paura, magari passami il termine, dico paura è un aggettivo abbastanza un po' importante, però è così. Nella nostra realtà ancora troppe persone sono lontane dal movimento, inteso come si intendeva tanti anni fa. Ecco perché il wellness è un'evoluzione del concetto di fitness. Non è più la palestra dove si sollevava del ferro, per capirci, ma è un concetto molto più ampio, molto più complesso, e molto più vicino anche a chi non ha mai fatto attività. Quindi lo scopo principe di Cesena in wellness è proprio di portare quelle persone che passano tante, troppe ore, soprattutto bambini, come dicevo prima i numeri sono abbastanza importanti, in negativo, di portare i bambini a muoversi. E non mettendo il focus sull'attività agonistica, come hai detto tu, ma sulla pratica del movimento che deve diventare un piacere. Rispetto al passato, parlando appunto dei bambini, ci sono tanti strumenti oggi che possono distrarre dall'attenzione, quindi magari telefoni, console, videogiochi, computer. Sfondi una porta molto aperta, nel senso che oggi purtroppo i bambini si avvicinano all'attività sportiva spesso dando priorità all'agonismo, all'attività agonistica, alla prestazione, alla performance. Questo allontana sempre di più i bambini dallo sport, perché come sappiamo bene, uno su mille ce la fa a livello agonistico e poi magari diventerà un professionista in uno sport o in un altro. Questo cosa porta? Porta ad una percentuale altissima di abbandono da parte dei bambini. Ecco, il format di Cesenin Wellness, c'è un format all'interno di Cesenin Wellness che è Bimbi Movimento, che riguarda proprio tutta la fascia che va dai 3 ai 12 anni, è dedicata proprio a far capire ai bambini quanto è importante il movimento e il gioco, quindi l'espressione della libertà di muovere il proprio corpo liberamente, senza inseguire una prestazione o una performance, il che spesso, non sempre, purtroppo porta ai bambini ad abbandonare lo sport, perché magari un bambino non è portato per il calcio o per il tennis, quindi finisce in panchina e quindi poi preferirà giocare con la Playstation o giocare con i videogiochi o col cellulare. Questo è una cosa che non deve succedere o che non dovrebbe succedere. Ecco, ora immedesimiamoci un attimo in un qualsiasi bambino o qualsiasi persona che arriva a Cesenin Wellness. Davanti alla pista d'atletica, che cosa troverà e come farà ad accedervi? Allora, spero tanta gente, spero tanti curiosi e non solo, oltre a tantissimi addetti ai lavori, ci sono oltre 500 opportunità di provare diversi corsi, tutti i tipi di attività possibili e immaginabili che il nostro territorio offre. Quindi, chi arriverà a Cesenin Wellness cosa può fare? Può fare di tutto, può guardare, può ascoltare, può magari essere incuriosito da un'attività piuttosto che da un'altra. Un'altra cosa molto bella che è successa in questi anni è che si sono create tantissime partnership nel nostro evento con tante realtà del nostro territorio. Per due giorni le palestre non sono competitor, ma sono partner in un coinvolgimento globale della popolazione. Quindi, chi verrà lì potrà non solo provare tantissime attività, bambini in primis, ma anche soltanto informarsi magari su un'opportunità piuttosto che un'altra che il territorio offre. Magari se io sono sedentario faccio fatica a andare a informarmi in una palestra o in un centro o da qualsiasi altra parte perché magari sono un po' restio. Ecco lì ho tutte le possibilità, in maniera easy, molto semplice, di informarmi e di curiosare e perché no, anche di assaggiare magari qualcosa di buono da mangiare del nostro territorio. L'ingresso sarà a pagamento o gratuito? L'ingresso è gratuito, ma si pagherà un euro che grazie alla collaborazione tra le tante stipulate quest'anno è nuove con Romagna Solidale. Quindi questo euro verrà devoluto verso persone che hanno più bisogno di noi. Quindi abbiamo quest'anno fatto questa piccola variazione proprio per spingere ancora un po' di più questo evento verso il sociale, verso chi ha più bisogno di noi. Tu rappresenti l'associazione Time to Move, raccontaci oltre a Cisne Wellness che cos'altro fate, e soprattutto quanto tempo ci vuole per organizzare un evento di queste dimensioni? Esatto, parto dall'ultima domanda perché ancora non so quanto tempo ci vuole realmente. C'è nel senso che noi lavoriamo da un anno all'altro, questo è un evento che si ripete anno per anno e più o meno ci vuole circa un annetto per preparare un evento del genere. Io rappresento Time to Move in questo momento davanti a te che è formato da una serie di ragazzi come me che praticamente sono tutti operatori del benessere e che come dicevo prima pensano che la collaborazione tra le varie realtà sia più importante che la competizione negativa nel senso del termine tra una realtà e l'altra. Quindi crediamo che l'unione faccia la forza. La forza in che cosa? Nel sensibilizzare l'opinione pubblica verso il movimento. Quindi nell'avvicinare chi preferisce o preferiva il divano all'attività motoria. Sappiamo bene che l'attività, cioè che il nostro sistema sanitario nazionale non può più farsi carico della spesa legata alla sanità pubblica. Quindi sappiamo altrettanto bene che ormai tantissime evidenze scientifiche dimostrano che il movimento non solo è un potente farmaco contro la maggior parte delle patologie croniche e non che affliggono la nostra società. Quindi il movimento rappresenta proprio una prescrizione ormai anche da parte dei medici come un farmaco, come qualcosa che possa combattere alcune patologie, quindi farci star meglio e perché no far spendere anche un po' meno alla nostra Italia che secondo me ne ha bisogno. Sicuramente è così. Bene, ora che abbiamo fatto questa bella panoramica andiamo a vedere uno degli ospiti che saranno presenti, un ragazzo giovane tra l'altro. Andiamo a sentire Matteo Tacconi. Matteo Tacconi, sono ben tre anni che tutti alleni, team medesimi in una nuova disciplina sportiva a corpo libero denominata calisthenics. Di che cosa si tratta? Allora, il calisthenics è una forma di ginnastica a corpo libero che mira appunto tramite esercizi prima di base quali piegamenti, trazioni alla sbarra e distensione parallele. Cercare di creare un fisico armonioso e anche perché no quella che viene ricercata soprattutto nelle palestre qual è l'ipertrofia o massa. Ci sono tre principali filoni. Il primo che è l'endurance che appunto tramite lo sviluppo costante delle basi mira ad arrivare a eseguire il maggior numero di trazioni alla sbarra, il maggior numero di piegamenti a terra e il maggior numero di distensioni alle parallele. Il secondo filone è il filone dello strength, ovvero sempre esercizi di base si tratta ma con l'aggiunta stavolta di zavorre, quindi quali possono essere cinture con dischi e qualsivoglia forma di peso insomma. Infine abbiamo il filone delle skill che è quello in cui mi cimento per la maggiore che mira appunto lo sviluppo di esercizi che comunque esprimono la forza dell'atleta. Come ti è nata questa passione? Questa passione mi è nata nel giugno del 2015 vedendo dapprima qualche video su YouTube degli atleti americani. Dapprima ho partecipato a un meeting in cui c'erano i principali esponenti di questa disciplina e mi hanno fatto conoscere i primi esercizi e poi diciamo che ho proseguito in autonomia. Qual è la dimensione di questo sport? A livello nazionale ultimamente si sta diffondendo possiamo dire a macchia d'olio mentre dal punto di vista internazionale ha preso piede anche a manifestazioni importanti del fitness quale il FIBO di Colonia. Va molto in Russia in cui si organizzano veramente dei campionati importanti. Anche nell'Asia i campionati del mondo due anni fa sono stati a Shanghai e quest'anno invece saranno in Bahrain. Qual è quindi il tuo obiettivo nei prossimi mesi? Il mio obiettivo sicuramente è quello di portare il Calisthenics alla ribalta a Cesena tramite il Cesena Wellness che si terrà il 22-23 settembre e sarò presente in collaborazione con una palestra di Forlì, il CaliUp di Forlì. È una palestra vera e propria di Calisthenics e mi ha dato la propria disponibilità per darmi supporto, insomma fornirmi la struttura in modo da rendere più possibile apprezzabile questo sport. Il mio obiettivo è sicuramente quello di avere un mio spazio migliore, più attrezzato anche per poter partecipare a future competizioni, perché no, in cui potermi allenarmi in sicurezza e dove poter sviluppare al meglio le mie competenze in questa disciplina. Antonello, il Calisthenics è una disciplina davvero impegnativa? Sì, abbastanza. Non spaventatevi, la mia non spaventatevi è rivolta più che altro agli avanti del divano. Non sono tutti come lui a Cesena Wellness, quindi benissimo. Questa che abbiamo appena visto, quindi il Calisthenics, è una delle novità di quest'anno, è una delle attività che il nostro territorio offre, quindi magari è un po' più vicina a chi ha già un po' più di pratica nell'esercizio fisico, ma io credo che non esiste movimento che possa essere completamente inadatto per una o per l'altra persona. È tutta una questione di come vengono tarate le attività, come per ogni cosa. Ogni cosa al momento giusto e al posto giusto, quindi sempre affidarsi a professionisti e cercare di trovare il vestito migliore per ogni occasione. Dal Calisthenics ora passiamo ai motori con un altro Cesenate Doc, Lorenzo Savadori, impegnato nel Mondiale Superbike. Sarà presente a Cesena Wellness il prossimo 22-23 settembre anche Lorenzo Savadori. Cesenate Doc, Lorenzo, tu sei un pilota della Superbike di comprovata esperienza, la tua preparazione atletica e fisica ti consente poi dall'inverno di affrontare tutta la stagione. Quali sono i passi per avere comunque un fisico con la tenuta così lunga? Diciamo che l'allenamento di un pilota non è semplice, perché chiaramente l'allenamento migliore è quello di girare con la propria moto e con la quale si corre, però anche per un motivo di costi e anche di regolamento. I test sono numerati e non si può girare sempre. Diciamo, io chiaramente sono alto per correre in moto, quindi ho bisogno di una muscolatura esile, non posso fare troppi pesi, perché comunque più peso e meno vado sul rettilineo. e quindi diciamo che io mi alleno facendo un po' di tutto, dalla corsa a piedi, andare in bici, a circuiti funzionali. Diciamo che in generale per andare in moto serve tanto cardio e diciamo che appunto essendo alto non posso fare troppi pesi, devo calcolare tutto fino ai dettagli. Tu ogni weekend di corse spendi tantissime energie, come fai poi a reintegrarti? Sono delle persone che mi seguono appunto anche su questo lato qua, anche perché comunque quando si corre, soprattutto d'estate, sotto la tuta, si arriva anche sopra i 55 gradi e c'è un grosso principio di disidratazione e è molto importante bere tanta acqua e sali minerali e chiaramente anche l'alimentazione è importante in tutto ciò. Un consiglio invece che puoi dare ad uno sportivo che magari non pratica uno sport a livello agonistico, ma semplicemente a livello amatoriale. Di divertirsi e di fare passi, piccoli passi, di non esagerare subito perché poi se si inizia a esagerare magari poi ti passa anche la voglia o la fantasia. Quindi è giusto fare tutto però a piccoli passi. Rinnoviamo quindi l'invito ai nostri telespettatori per il 22 e il 23 settembre di venire a Cisena in Wellness dove sarai appunto uno degli ospiti cardine della rassegna. Certo, vi aspetto numerosi. Ciao a tutti. Antonello, dunque abbiamo sentito anche nelle moto la preparazione atletica è importantissima e soprattutto anche il fatto di dover recuperare le energie è fondamentale. Assolutamente, anche questa è una credo delle massime espressioni dell'atletismo, dell'evoluzione della preparazione atletica. Ormai negli sport professionistici oggi non si lascia più niente al caso. Anche gli atleti delle moto sono seguiti e anche qui, anche dal punto di vista nutrizionale, come giustamente ha sottolineato lui, ormai non è più una cosa che si può improvvisare sia nella preparazione atletica, il loro peso viene costantemente monitorato così come tutta la preparazione specifica e anche l'alimentazione. Quindi anche qui, seppur abbastanza esasperato in termini positivi, perché qui servono delle performance di altissimo livello, il concetto di wellness è comunque presente perché si è parlato di alimentazione sana, di corretti stili di vita, di reidratazione, quindi di integrazione, come giustamente hai sottolineato anche tu. Quindi è anche questa una massima espressione dell'wellness inteso nel professionismo in questo caso. E passiamo ad un altro professionista, anche lui ospite a Cesenain Wellness, David Berkic per il basket. David Berkic, sei Cesenate Doc, tantissimi anni che giochi a pallacanestro anche a livello professionistico, hai vinto tantissime cose in carriera. Dal punto di vista sportivo, la preparazione fisica, quanto è importante per puntare in alto nello sport? Non è importante, ma è la cosa più importante di tutte. È una cosa che impari probabilmente col tempo. Quando sei piccolo, magari quando sei più giovane, non ti rendi ancora conto di quanto sei importante e tutto quello che fai, oltre all'allenamento specifico, in questo caso mio di basket, ma tutto quello che c'è attorno, dall'alimentazione, dalla preparazione personale, dal modo di vivere. Quindi diciamo che è veramente fondamentale. Ecco, fondamentale. Quali sono magari i tuoi suggerimenti per un ragazzino che si approccia al basket, ma non solo, in uno sport in generale? Cominciare a informarsi, visto che adesso, rispetto magari a quando ero più giovane io, non c'era internet che dava un grandissimo aiuto. Informarsi e vedere i grandi atleti, magari quelli che ci piacciono di più o quello che ci interessa nel nostro campo in particolare. Cosa fanno, visto che tanti lo spiegano, tanti lo fanno vedere, ci sono tanti video su YouTube, ci sono tanti blog, per farsi un'idea di quanto c'è dietro a un lavoro, diciamo, che dura per tanti anni. Perché lo sportivo non è solo far bene un anno, ma è avere una carriera molto longeva. Ecco, tralasciando il punto di vista agonistico, tu ne sei un esempio esemplare, tanti anni che giochi a basket, però va anche detto che ci sono anche tantissime persone che praticano sport nel tempo libero. Qui ovviamente non ci sono dei dettami molto rigidi, comunque l'importanza forse è la costanza. Sì, magari ecco, non sono le stesse cose che dobbiamo fare noi tutti i giorni, in una maniera così agonistica, però la costanza nel fare, non fare solo magari in certi piccoli periodi dell'anno, ma cercare tutto l'anno di mantenere sempre un buon allenamento, una buona forma fisica, una buona alimentazione, sicuramente questo vale per tutti, non solo per gli sportivi a livello agonistico. Un appuntamento importantissimo, sarai anche tu presente il prossimo 22-23 settembre a Cesena con Cesena in Wellness. Sì, ci sarò anch'io, quindi vi aspettiamo numerosi, 22-23 settembre qui in zona ipodroma a Cesena. Ciao a tutti. Bene, ci ha parlato di sport un'altra utilità professionista, ora passiamo però ad attività dedicate agli anziani. In Common Sport e Cesena in Wellness, perché? Dov'è l'innovazione? Siamo molto felici di questa partnership, perché il target della manifestazione è sempre stato più per giovani, più per persone di media età, e quindi avere anche un target di persone più anziane, ma che comunque devono fare movimento costantemente, per noi è una grande innovazione, quindi questa partnership per me è molto importante e questa credo che sia una delle novità più importanti dell'edizione 2018. Progetto in Common Sport, come sei arrivata a partecipare? Perché ti è interessato? Mi è interessato perché sono sportiva e sono già in un'altra associazione, me l'ha detto un'amica e ho partecipato anche a questo per i tempi che ho, una volta alla settimana, mi trovo bene e è anche un modo per socializzare con persone nuove. Io sono un'assistente sanitaria, ho sempre lavorato nella prevenzione, quindi credo in sani stili di vita e in buone pratiche, per cui questo progetto mi ha subito interessato e ho partecipato molto volentieri. Si è creato un insieme di relazioni sociali, che questo è molto importante, soprattutto per le persone così, gli over 60, che cominciano a volte a trovarsi anche soli, e quindi al di là del discorso sportivo c'è questa rete di relazioni sociali che io ritengo molto importante. Mi hanno avvisato dove andavo in un'altra associazione a fare sport e mi interessava per stare insieme alla gente. Io non ho niente da fare a casa e così passo il tempo e faccio qualcosa di utile per me. Su Facebook di questa iniziativa sono stato incuriosito, in quanto già faccio una piccola attività sportiva di podistica, ho pensato di poter continuare a fare un'altra attività, ho controllato, ho assistito da tecnici preparati. Per il Comune di Cesena, valore, opportunità? È un progetto importante, in Common Sport è un progetto che nasce da un bando europeo, da un programma Erasmus, e il Comune ha deciso con gioia di supportarlo e di finanziare questa attività importante, perché crea legame attraverso lo sport e dimostra come attraverso lo sport si creino relazioni, si creano opportunità, si creano anche momenti di svago e di condivisione e dimostra come i finanziamenti europei siano una base importante per realizzare progetti, realizzare attività e creare sinergie sul territorio. Il progetto è all'interno delle politiche della città in ambito sportivo? Il progetto si inserisce a pieno, anzi rappresenta un'opportunità, perché fra gli impegni dell'amministrazione, ma direi anche del Consiglio Comune di Cesena, dal 2016 c'è quello di cercare di ampliare la proposta sportiva al maggior numero di persone della città, credo che questo progetto vada oltre quella che è l'attività quotidiana promossa dalle associazioni sportive. Antonello, che altro aggiungere per gli anziani? Due cose che sono già state sottolineate, una l'importanza sociale, quindi far socializzare queste persone, come diceva la signora io sto seduta sul divano, invece con questo progetto mi riesco a muovere e riesco a socializzare. Due, dobbiamo cercare di alzare non tanto la quantità della vita in termini di numeri, ma la qualità della vita, quindi invecchiare sì, arrivare a 100 anni sì, ma arrivarci meglio. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito, ringrazio Antonello Virgona. Grazie a voi per la vitalità. E rinnovo l'appuntamento per Cesena in Wellness, 22-23 settembre, alla pista d'atletica dell'Ippodromo di Cesena. Grazie a tutti. Grazie a tutti.